Amici sportivi Dan Peterson qui con voi sempre per SB Daily e oggi parliamo di un grande giocatore, una leggenda, Riccardo Pitis, che ho avuto io il piacere e l'onore di lanciare la Serie A 86-87 con l'Olympia Milano, poi lui ha fatto grande carriera con l'Olympia, poi anche Benetton Treviso e anche con la Nazionale dove è stato anche capitano. Era un giocatore un po' atipico, un po' prototipo della alla piccola moderna, alta, la gente dice 2 metri 1, ha misurato Riccardo quando aveva 16 anni, era 2 metri 1, secondo me Riccardo più 2 metri 4, 2 metri 5, con una grande apertura di braccia, grande altismo, grande elevazione, grande rapidità di piedi e soprattutto mani e braccia, per questo lui ha stabilito tanti record per palle recuperate, palle rubate, intercettate, palleggi rubati, grande difensore, lo chiamavano anche da anti-Q-coach perché era uno quasi alto come Q-coach che lo marcava anche molto, ma molto bene. Ha vinto Riccardo in carriera tipo con Milano, con Treviso, tipo 19-20 diversi titoli importanti, scudetti, Coppa Italia, altre cose, quindi Coppa di Campione, Coppa Core, altre cose, quindi Riccardo è stato giocatore non solamente un vincente ma anche un grande campione. Dopo la carriera di giocatore ha proprio preso la strada di fare dirigente e anche team manager delle squadre nazionali, sempre coinvolto con Dino Meneghin, con la nazionale italiana e poi lui è stato anche molto importante nella tentativa di far rinascere il basket a Treviso che dopo la scomparsa di Benetton come sponsor proprietario della grande basket a Treviso, la squadra è andata nelle classifiche più basse, A2, B1 e via dicendo. Riccardo insieme a alcuni altri giocatori, ex giocatori proprio di Treviso, ha cercato di far rinascere il basket a Treviso e guarda caso quest'anno sono in Serie A. Riccardo fa anche motivatore, diversi top team building, speech per l'industria e anche teleconista per la RAI che fa per la Serie A, le Coppa e altre cose, quindi Riccardo ha fatto una carriera nel basket solamente i grandi successi. È stato il mio piacere, il mio onore di essere il suo allenatore all'inizio della carriera. Riccardo, tanti complimenti ai amici sportivi. Oggi concludiamo questo. Ciao, saluti a tutti.